E' tutta colpa di BACT secondo la JP Morgan. Salve a tutti, Marco Casario qui, facciamo un rapidissimo update su quello che è successo oggi sul mercato di Bitcoin perché come vedete il prezzo sembra essere, diciamo così, fermato su quest'area, è stato fermato qui su quest'area che va dagli 8.000, scusate, 300 dollari fino sotto ai 7.500, era un'area che avevo indicato di attenzione su cui il prezzo, guardate, qui aveva rimbalzato a giugno per poi arrivare in alto ai due massimi a 14.000 dollari, aver creato questo massimo e poi piano piano esser sceso. Ma quello con cui ho iniziato il video era appunto questa dichiarazione di JP Morgan che avrebbe detto appunto che la discesa del circa il 20% di Bitcoin era dovuta al lancio, di BACT come progetto. Se andate a cercare le news su questo aspetto trovate sicuramente, fatemene caricare una, magari ce la andiamo a vedere insieme. Qui, vedete, trovate tanti articoli su questa, diciamo così, notizia riguardante JP Morgan che avrebbe appunto detto che la colpa è da imputare al progetto BACT. Evidentemente c'era stata tanta, tanti si aspettavano un rialzo veloce, una volta che era stato, che il progetto fosse stato lanciato sul mercato, invece gli scambi sono stati piuttosto fiacchi. E quindi quando succede questo, che succede? Si instaura anche, magari qua, quello che era successo è che avevano comprato per il lancio di BACT, magari in questo momento qui ad agosto, e poi a settembre, quando c'è stata poi la giornata di lancio, sono rimasti, diciamo un po' così, scontenti di quello che è successo e il prezzo è calato. Vi dico la verità, io non credo molto a questa versione, credo solo alla grande manipolazione che c'è sul mercato di Bitcoin. Comunque, stiamo a guardare perché è interessante la formazione che abbiamo in queste due, tre giornate. Visto, vedete che qua si è formato un piccolo, possiamo definirlo così, un piccolo triangolo simmetrico, che potrebbe essere appunto una figura di prosecuzione di questo inizio di trend, di impulso almeno ribastista, non lo voglio chiamare trend ribastista, ma impulso ribastista, non ci dimentichiamo che dopo questi doppi massimi abbiamo sempre avuto massimi inferiori. Vedete qua, questo è un grande segno di effettivamente debolezza del prezzo. Volevo andare a vedere insieme anche, oltre Bitcoin, anche Ethereum, per vedere che cosa era successo. Andiamo a vedere nei confronti sempre del dollaro e rimaniamo sempre su Coinbase come exchange per vedere l'andamento del prezzo. Vedete che effettivamente Ethereum è rimasto su questa struttura qui, è andata a sfiorare quest'altra struttura a 141 dollari. Ha usato invece di nuovo come supporto questa struttura qua intorno ai 175 dollari e la candela di oggi sembra poter chiudere al di sopra di questo piccolo flag che si era creato. Lo vedete qua, ribasso, flag, e il prezzo sembra stia rompendo verso l'alto. E questo è sicuramente Ethereum che ha perso meno di Bitcoin. Vediamo un po' quanto ha perso dai massimi qui sopra quando stava qua. Ha perso ad oggi il 19%, quindi no, effettivamente stiamo un po' simili a Bitcoin. Andiamo a vedere LTC, cioè Litecoin. Rimaniamo sempre su Coinbase, vedete Litecoin qui è sceso, anche lui adesso ha un po' rallentato, qui è leggermente diversa la figura, è meno una flag e più un wedge. Anche qui figura di prosecuzione, è meno forte di Litecoin come ripresa, almeno questo è quello che vediamo. E qua vediamo che il prezzo è sceso, ha ritracciato, è andata ad usare come resistenza questa struttura a 78 dollari per poi scendere ancora e qui siamo in prossimità della grande discesa che ha avuto Bitcoin. Chiudiamo con XRP, XRPUSD e anche questo lo andiamo a vedere su Coinbase. Allora, siamo scesi qua sotto a questo livello importante effettivamente, vedete qui stiamo sui 0,25, il prezzo qua è sceso sotto ma potrebbe essere un falso breakout perché adesso la candela sta provando a rientrare, interessante vedere se riuscirà a sostenere e fare un breakout di questa resistenza, viceversa usarla come resistenza, quindi supporto qui e resistenza in questa fase per poi continuare a scendere. Ragazzi direi che la situazione è invariata, appunto l'unica piccola differenza è questa notizia interessante che è uscita JP Morgan e che ha imputato a BACT e al suo lancio la causa del crash di Bitcoin. Se questa è la causa è altamente probabile che in poco tempo ci sarà un recupero, staremo come al solito a vedere. Io come vi ho detto ieri a scopo didattico avevo aperto una posizione in short, la mia prima posizione in short su Bitcoin, è una posizione di brevissimo periodo, quindi vuol dire che lo stop loss è molto vicino, soprattutto se Bitcoin dovesse risalire qui sopra, quindi non è lontano perché su una, soprattutto perché sono short, soprattutto perché lo sto facendo dal punto di vista didattico per dimostrare ai miei studenti come applicare una tecnica, un approccio anche in condizioni short, lo stop loss è molto conservativo. Voglio farvi notare un'ultima cosa, guardate il prezzo sta risentendo anche, sta usando come struttura, come resistenza scusate, non solo questa struttura 8.280 dollari, ma anche la media 200 periodi, che è un altro parametro importante che i prezzi, anche in passato se andare a vedere il passato di Bitcoin, hanno usato come struttura, a volte come supporto e a volte come resistenza. Staremo a vedere che cosa succederà, grazie mille per l'attenzione, un like se questo video vi è piaciuto, lasciatemi qui sotto un commento per dirmi come la pensate voi, buon trading a tutti, ciao!